In questo video ti voglio spiegare la differenza che c'è tra essere apicoltori e imprenditori apistici. Nel passato, ormai non troppo lontano, eravamo tutti quanti degli apicoltori, ma ad oggi servono delle competenze ben diverse da quelle dell'apicoltura ed esulano veramente da quel lavoro. E quindi siamo imprenditori apistici. Probabilmente un hobbista può essere definito un apicoltore, cioè una persona che occupa il suo tempo dedicandolo semplicemente alla cura delle api e se vogliamo anche alla produzione del miele per casa propria. Invece un imprenditore apistico ha delle competenze che sono molto più complesse e trasversali rispetto ad un apicoltore. È molto importante imparare questa differenza, perché in realtà ancora siamo ancorati ad un passato non troppo lontano che però non ci permette di raggiungere i nostri obiettivi, i nostri risultati. Quindi prima capiamo chi siamo e prima riusciamo a capire dove andare. Quindi se sei un hobbista e ti curi quasi esclusivamente dei tuoi alveari, allora sei un apicoltore. Se invece hai una partita IVA, hai dei rapporti con altri clienti, con delle persone e non ti curi soltanto degli alveari ma hai bisogno di purare a 360 gradi la tua azienda, allora sei un imprenditore apistico. Ma andiamo a vedere quali sono le conoscenze per essere un imprenditore apistico DOC. Beh, innanzitutto un imprenditore apistico è un imprenditore. Cosa significa essere un imprenditore? Andiamo a vedere l'etimologia della parola. Imprenditore è una persona che fa impresa, che imprende, cioè che fa. Il fare è il nostro pane quotidiano. Essere un imprenditore vuol dire che è qualcuno che trasforma i propri sogni in realtà, che li costruisce e che li fa. Essere un imprenditore quindi non è una caratteristica negativa, come spesso viene percepito all'interno della nostra società, soprattutto al giorno d'oggi, ma essere un imprenditore vuol dire essere una persona attiva nel cambiamento. Quindi è una cosa, dal mio punto di vista, bellissima. Oltretutto essere imprenditori apistici significa che abbiamo appunto un rapporto con un'altra persona, in questo caso con un altro animale, in più selvatico, che è l'ape. Quindi dobbiamo in più avere delle conoscenze ancora più trasversali rispetto a quelle che normalmente avrebbe un normale imprenditore. Quindi le conoscenze che noi dobbiamo avere innanzitutto quali sono? La prima in assoluto, anche se vi sembrerà veramente molto strano quello che vi starò per dire, ma è la coscienza della bellezza. Cosa significa? Essere coscienti della bellezza significa essere coscienti di quelli che sono i trend e di quello che vi circonda. Qual è la bellezza che circonda adesso il mondo? Di cosa i blogger, gli influencer, le persone stanno parlando? Ovviamente questo si sta parlando del top del top. Bisogna allenare i nostri occhi a percepire questa bellezza per poter capire effettivamente in che direzione va il mercato e quindi essere continuamente competitivi. Questo perché eravamo abituati dai nostri padri e dai nostri madri a ragionare come se ci fosse un obiettivo statico nella nostra vita. Cioè eravamo abituati a pensare che una volta che avevamo trovato un lavoro fisso, avevamo fatto una famiglia, avevamo studiato, avevamo fatto un determinato numero di soldi con il nostro stipendio, potevamo stare tranquilli nella nostra vita. La nostra vita finiva lì e poi arrivavamo alla pensione e vivevamo la pensione fino alla nostra morte. Bene, in realtà questa è assolutamente una illusione. È una illusione perché? Perché la vetta di una montagna non è altro che la valle di un'altra. Non esiste mai un punto fisso, non esiste mai un punto statico, ma dobbiamo continuamente migliorarci, continuamente rinnovare le nostre conoscenze e le nostre strumenti che abbiamo per sopravvivere appunto alla vita e per saper cavalcare il cambiamento. Perché il cambiamento è ora, adesso vi sto parlando, ed è sempre. Quindi è molto importante essere sempre pronti a migliorarci. Detto questo, quindi gli strumenti necessari sono migliorare i propri occhi, i propri sensi alla bellezza. I secondi strumenti riguardano proprio gli strumenti che noi adoperiamo in azienda, che sono proprio quelli legati anche proprio all'apicoltura, quindi i mezzi legati, non so, al conoscere i nuovi mezzi di trasporto, conoscere i mezzi legati alla fatturazione, i mezzi legati al che modo posso rendere efficiente la mia azienda dal punto di vista produttivo. Quindi in che modo posso essere produttivo e sostenibile allo stesso modo. Ho bisogno di adoperare degli strumenti che spesso sono digitali che mi permettono di essere efficace ed efficiente il più possibile, di non sprecare energie. Gli ultimi strumenti, ma non i meno importanti, anzi, qui apro una parentesi infinita, sono gli strumenti digitale di comunicazione. I social. Che cosa sono i social? I social non sono altro che delle piazze, dei luoghi che normalmente noi frequentiamo nell'analogico, spostate nel digitale. In realtà, quindi, noi non ci possiamo arrabbiare con Facebook perché ci sono persone che non la pensano come noi o che sono volgari. Questo perché Facebook non è altro che un mezzo. È come andare con una macchina addosso a un albero e prendersela con la macchina, se la colpa era nostra che eravamo ubriachi. Quindi in realtà i nuovi mezzi di comunicazione, i social, Facebook, Instagram, quelli che voi sentite sul web o dai vostri amici, sono dei mezzi di socializzazione, ma sono dei luoghi. È come andare, non so, a me per esempio, vabbè, non piace tantissimo, ma c'è tanta gente che va per esempio al pub a bersi una birra e socializza con delle persone che sono affini all'interno del pub. Stessa cosa avviene su Facebook. Non per forza dobbiamo comunicare con tutti quanti. Possiamo, per esempio, non seguire determinate persone e altre invece sì. Esistono delle pagine dedicate al business come esistono delle pagine personali che si chiamano profili personali. Quindi i social ci servono per socializzare. Siamo animali sociali e quindi abbiamo la necessità di socializzare. Oltretutto è anche molto divertente. Abbiamo la necessità di conoscere degli strumenti che ci permettono di avere il controllo della nostra azienda per conoscere il mercato. Poi appunto esistono tutti quegli strumenti, gli ultimi in assoluto, che sono gli strumenti di insight, cioè sono gli strumenti di analisi che ci permettono di comprendere il mercato per capire se veramente il mercato a cui ci rivolgiamo è un mercato pieno di vita o è un mercato che è in espansione oppure è un mercato su cui non vale la pena investire e magari vale la pena investire su altro o su un qualcosa di simile. Quindi sono degli strumenti che ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi perché ci permettono di analizzare i competitor e di capire in che modo possiamo posizionarci sul mercato. Cioè degli strumenti che ci permettono di capire qual è il nostro brand positioning. Con questa lezione spero di averti illustrato brevemente quali sono gli strumenti e la differenza tra un imprenditore apistico e un apicoltore. Perché c'è molta differenza tra chi è un apicoltore che cura semplicemente gli alveari ovviamente lo fa magari anche con amore e cura però non richiede una conoscenza così elevata della realtà. Invece l'imprenditore apistico deve conoscere tutta una serie di strumenti compresi anche burocratici perché non scordiamoci che c'è tutta una parte relativa ai bandi, ai finanziamenti europei che ci permette anche di sopravvivere anzi soprattutto ci permette di sopravvivere in questo momento storico. Ci vediamo con la prossima lezione. Ciao!